Supermercati presi d'assalto dei consumatori e gli scaffali, in particolare quelli della farina e dell'olio, sono vuoti. Come accadde durante il primo lockdown da Covid, l'incertezza dovuta alla guerra in Ucraina ha spinto molte persone a fare scorta di beni di prima necessità. Soprattutto oggi, giornata in cui gli autotrasportatori avevano annunciato lo sciopero a causa del caro benzina. Le importazioni di grano dell'Unione Europea provengono per il 20% dall'Ucraina. Un chilo di farina non ho trovato niente, se arriva la guerra siamo finiti. E ora come fa? E ora come faccio? Mi attrezzo, con la farina di Gran Turco se trovo. In realtà la farina non manca, la difficoltà dei supermercati è piuttosto quella di far fronte all'improvviso aumento della domanda, come ci spiega il direttore commerciale marketing di Conad Adriatico, azienda che in Abruzzo ha 145 punti vendita. La scorsa settimana ad esempio, anziché vendere come sempre mediamente 5.000 cartoni di farina, ne abbiamo venduti 15.000. Per forza che poi finiscono, perché non si riesce a ripristinare le scorte, nei fornitori sono così abituati a dare il triplo e a produrre il triplo della merce. Occorre che si organizzino per farlo, quindi la carenza di prodotto non c'è. La carenza piuttosto riguarda l'olio di girasole, importato per circa il 75% dall'Ucraina. Quest'olio ha recentemente rimpiazzato quello di Palma e viene utilizzato in molti prodotti, dalle verdure sott'olio ai dolciumi. Il girasole viene piantato tra marzo e aprile e raccolto tra giugno e luglio. La guerra ora ne mette a rischio la produzione. Se la guerra non si ferma immediatamente, l'olio di girasole non ci sarà fino al raccolto del 2023, quindi non avremo olio di girasole. L'olio di girasole in Italia è usato tal quale, da ristoranti, dall'industria, viene usato come ingrediente, perché le verdure sott'olio, le salse, le maionesi si fanno con grandi quantità di olio di girasole. Per questo molti supermercati stanno razionando le vendite. Sono stati esposti i cartelli in cui si spiega che l'acquisto di questo prodotto è limitato. Ogni cliente può portar via a massimo due bottiglie e mezzogiorno e l'olio di girasole è già completamente esaurito. Per questo ai supermercati è giunta una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico che il TG6 vi mostra in esclusiva. Secondo le indicazioni del di Castero, per i prodotti dove sulla confezione è indicato l'utilizzo di olio di girasole, dovrà essere aggiunto un adesivo dove si avvisa della sostituzione di questo ingrediente che probabilmente sarà rimpiazzato con l'olio di colza.